E' iniziata il 31 maggio la cosiddetta Tredicina, il periodo di avvicinamento al 13 giugno, festa di Sant'Antonio, e in questi giorni aumenta in modo esponenziale l'afflusso di pellegrini sia alla tomba che alle reliquie. Arrivano soprattutto dalla Polonia, dalla Francia, dai paesi nordici e poi da Colombia, Brasile, Argentina, Russia e Vietnam, in notevole aumento le cifre rispetto all'anno scorso. Il 2 giugno ben 4.987 passaggi alle reliquie e la Basilica aveva tutti gli 800 posti a sedere occupati durante la Santa Messa, presieduta da Monsignor Dalcin, delegato pontificio, con 2.500 ostie consacrate. I fedeli e pellegrini vengono naturalmente anche da tutta Italia e le loro testimonianze sono sempre emozionanti. E' una cifra altissima e comunque fa pensare che ancora l'esempio premia chi prega questo santo, che secondo me è veramente un esempio sia soprattutto per il discorso della povertà, del discorso del dare ai poveri. Da dove viene lei? Da Torino. Io sono contento perché se contasse anche la mia visita andare al santo perché è il mio santo. Io mi chiamo Antonio e allora sono venuto a fare una visita. Da dove viene lei? Io vengo da Bologna. Io sono venuto, c'è stato un bolognese. Io è la terza volta, non me la ricordavo così bella. Sono venuta l'ultima volta, vent'anni fa. Cosa si chiede di solito a Sant'Antonio? Ah, pace, salute. Io non sono un credente praticante, insomma, però è chiaro che ognuno chiede cose che c'è dentro di sé, insomma. Da dove venite? Dalla Sicilia. Proprio in Sicilia le sacre reliquie stanno viaggiando per incontrare chi non può venire a Padova. Fino al 15 giugno, accompagnate da due frati della Basilica, stanno facendo tappa in dieci località, in ogni santuario e in ogni parrocchia. In questi giorni sono a Scicli. Il viaggio si concluderà il 13 giugno a Palermo.